San Pietro locale, risciole solo locali, va vedere questa risciola, spettacolo del mare, riprendi qua, cosci ancora per tutti, strigli spettacolari, guarda questa ora di mare, spettacolo di mare, gambe russi per tutti quanti, spiegati questi cuoci, guarda, guarda, e farfalline, e farfalline belena, ti, guarda, riprendi, riprendi la farfalla di belena, riprendi spettacolo, non ti spiegoli mai, guarda qua, guarda qua, ti spiegoli mai, riprendi lo spettacolo, sono sciolta, super sciolta, super sciolta, andiamo giù, seppi ancora vivo, guarda, riprendi le mesi, ancora trasparenti, guarda, sono 13 aracchini, spettacolo, colpio con tutta la campagna, colpi per tutti quanti, guarda qua, vieni a vedere chi sono bello, guarda chi si dice, attenzione, guarda quanto è bello, colpo vivo per tutti quanti, spettacolo, e parrucca per tutti quanti, così, e parrucca per le cucine campagna, arrabigli peppe, vai a vedere, vieni con me, facciamoci una roba bella peppe, allora vogliamo facciamoci, 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 sempre 25 aracchini, raggi 5 aracchini, gamberi rossi giganti, 14, vieni a vicino, vieni a vicino, vieni a vicino, 30 giganti, solo 10 aracchini, e 3 genuchini, palanzi di broccia, ricciolta, gamberi bianchi rossi, spigli, gruppo e braccio la sardegna per tutto quanto, non vedi, vieni a tutti qua, non la vedi paù, vieni, vieni.